Berry Plant è felice di presentarvi questa casa meravigliosa. Riuscite a immaginarvi a vivere qui? Questa casa attraente offre gradevole e confortevole soggiorno per la vostra famiglia. Una stupenda cucina dove sarà un piacere preparare i pasti. Questa proprietà soddisferà ogni vostra esigenza. Fissate un appuntamento al più presto per vedere questa casa.